Musica Buongiorno raga, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video L'ATP e il tennis australia hanno trovato l'accordo e hanno svelato tutti i particolari sulla nuova competizione che nasce nel mondo del tennis Infatti dal 2020 il tennis avrà una sua coppa del mondo dall'inizio 2020 che si chiamerà ATP Cup Ovvero una sorta appunto di competizione a squadre mondiale di proprietà dell'ATP Che quindi la lancerà proprio a partire dal 3 al 12 gennaio del 2020 Sarà intanto un evento che porterà una certa rivoluzione al tennis Che per la prima volta torna a dirrompere il mondo del tennis dopo l'altra ATP World Cup Che sarà svolta dal 78 al 2012 a Düsseldorf E soprattutto appunto sarà importante per l'Australian Open Visto che sarà immediatamente precedente al primo slam dell'anno E il regolamento è proprio il tale Ci saranno 24 squadre qualificate in base al ranking ATP Per dire la Serbia è qualificata perché ha Novak Djokovic il numero 1 del mondo La Spagna è qualificata perché ha il numero 2 Rafael Nadal L'Italia è qualificata perché ha il numero 13 Fognini e il numero 20 Cecchinato Fammi pensare La Germania è qualificata perché ha il numero 4 Sverbo e così via Per arrivare alle 24 formazioni che andranno proprio a formare questa ATP Cup Ogni formazione potrà schierare, potrà convocare 5 atleti Appunto in questo momento l'Italia parteciperebbe a questa ATP Cup La formula è quella dei round robin Saranno 4 gironi da 6 squadri ciascuna E ogni match sarà composto da 2 match di singolare e 1 di doppio Che andranno proprio a decretare il vincitore di quella sfida Oltre a questo ragazzi ci saranno anche in palio dei punti ATP Infatti ai vincisori andranno ben 750 punti ATP Che sono poco meno comunque della quota di chi vince il Masters È più o meno equivalente a una semifinale slam Quindi potete capire ragazzi anche la grande importanza Dell'introduzione dei punti ATP In questa competizione Ovviamente l'ATP ha deciso di mettersi in contrapposizione Alla nuova Coppa Davis formata da Gerard Pichet e dall'ITF Insomma un messaggio forte mandato dall'ATP Proprio all'indirizzo dell'ITF Perché insomma l'ATP vuole proprio dare questa impronta forte Per cercare di avere comunque la competizione a squadre Più forte di tutti Inoltre ragazzi il monte premi sarà di ben 15 milioni di dollari Quindi insomma un bel ricco monte premi E questa competizione ha ricevuto già assensi positivi Da giocatori quali Novak Djokovic, Roger Federer e Jonisner Con Djokovic che ha detto che trova molto buona l'idea Proprio dell'introduzione di questi punti ATP Ovviamente penso che vada a limitare anche i 250 storici Diciamo di quel periodo dell'anno Perché andresti comunque a tarpari le ali A tornei come Sydney, come Brisbane Come Pune che è comunque arrivato da poco O come la Openman Cup Comunque andresti a cancellare questi tornei dal circuito ATP Poi vedremo come sarà gestita la situazione Magari cominceranno leggermente prima la stagione Proprio per non cancellare questi ATP Comunque io ragazzi la scelta la vedo abbastanza giusta Proprio sono contro la Coppa Davis Ma in questa competizione sono abbastanza d'accordo Perché una Coppa del mondo ci sta Ma che si vada appunto a rovinare una competizione storica Come la Coppa Davis è un'altra cosa Questa è indipendente dalla Coppa Davis E' una competizione completamente indipendente Proprio rispetto alla nuova Coppa Davis E trovo anch'io carina questa idea Anche di assegnare punti ATP magari ai giocatori Che si potrebbero mettere in luce con le loro nazionali Appunto l'Italia in questo momento parteciperebbe Grazie a Fabio Fognini numero 13 E cicchinato numero 20 E voi ragazzi lasciate tanto mi piace al video Condividete questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Lasciate un commento qua sotto Per sapere che cosa ne pensate Votate il sondaggio Che probabilmente vi lascerò Ragazzi Io tra l'altro ho un'idea No dai non ve la svelo ora questa idea Ve la svelo in un video a parte ragazzi Vi svelerò questa idea che ho per il finale dell'anno In un video a parte Per ora vi lascio la suspense Ragazzi appunto fatemi sapere che cosa ne pensate Su questa ATPK E noi arriviamo a decidere Al prossimo video